Al Miron, ancora Al Miron con il cross morbido a cercare Barreto, colpo di testa di Zebinat e Buffon si supera e poi va a dare il 5 al compagno e lo abbraccia e questo è un grande gesto da parte di Buffon Grande parata, straordinaria perché completamente in ritardo, preso in contropiede, guarda cosa riesce a fare prendere la palla dietro e tirarla fuori dalla porta, questa è veramente una parata straordinaria Adesso seguiamo il calcio d'angolo, poi alla dentro messa subito fuori dall'intervento di Iaquinta Poi volevo sottolineare il fatto che si aveva un grande gesto da parte di Buffon proprio perché Zebinat è uno di quei giocatori che spesso sono beccati dal pubblico e secondo me Buffon nell'abbracciarlo in maniera così plateale voleva anche lanciare un segnale sul fatto che la Juve deve essere unita per salvare questo finale di stagione anche se certo Zebinat aveva combinato un pasticcio bello grosso Gile Ecco lui è fuori tempo nel tentativo, vedi il po', guarda che parata perché parte in ritardo e riesce ugualmente a tirar fuori il pallone dalla porta